La tua marcatura è stata decisiva su Kaziraghi, che è l'uomo più fantasioso, più creativo. Sì, Kaziraghi è un giocatore forte, ma come alla fine tutto l'attacco è suttilo, perché Volta è un altro giocatore forte, poi Galoppini che comunque adesso sta trovando fatica, difficoltà sottoporta, però è un giocatore forte, Rover, De Marchi, mancava Odogu, comunque hanno un reparto molto forte. Sicuramente noi siamo stati molto bravi a concedere il zero, perché abbiamo subito il zero tiri in porta contro questi giocatori, contro questo attacco, quindi ci deve dare grande soddisfazione. Secondo te quella di oggi è la tua miglior prestazione stagionale? Ma questo non lo so, perché comunque mi concentro molto in campo, quindi poi magari me la rivedo, me la riguardo, quindi vedo un po', perché comunque in campo cerco di stare il più attento possibile, quindi non riesco a farmi una valutazione personale. Quest'anno però diciamo che hai avuto qualche problema fisico, non hai giocato con continuità, quindi possiamo inserirla tra le migliori prestazioni? Sì, sì, sicuramente è una delle mie prestazioni migliori. Sì, quest'anno, a discapito l'anno scorso, ho avuto qualche problema fisico, però è normale, cioè è naturale avere qualche inceppo, qualche problema fisico. Ti porti a casa la cassetta della partita? Te la porti a casa, immagino, no? Te la conseglie, conservi tutte? No, adesso abbiamo Wisecout, che è un sito che si possono rivedere le azioni, le partite, quindi ormai è tutto digitale. Era mamma che è in tribuna con la maglia di vergogni? Forse sì, no, 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 no. Oggi non c'era? È l'infermiera. Ah, l'infermiera? Sì, sì, io ho regalato la maglia. No, no. Aveva sempre la maglia, faccia la maglia, in parte con super gonzi, io penso fosse tua maglia. No, 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 è l'infermiera che ci faceva i tamponi. Ti aspettavi di vincere col su Tirola? Ma sicuramente, cioè, venivamo da due partite perse, anche se comunque secondo me sono due partite a parte, nel senso che con la Gianna è stata più una sconfitta, mentre con la Virtus Verona sono stati degli episodi sfavorevoli, così. Quindi noi comunque abbiamo fatto una settimana importante, una settimana tosta sotto tutti i punti di vista, e quindi mi aspettavo comunque un approccio forte da parte nostra, comunque per riscattare queste due sconfitte. E poi comunque abbiamo dimostrato di tenere sotto tutti i punti di vista contro una squadra che si presentava la sola, perché aveva subito sette gol fino ad oggi a 85 punti, quindi sicuramente una grande prestazione nostra. I risultati tu guardi a fine partita, i risultati delle altre, oppure… Sì, in genere non guardo magari prima le partite, magari contro chi giocano, però poi alla fine sì, comunque mi riguardo se i risultati, comunque mi rivedo i gol, così, perché comunque è importante secondo me vedere anche cosa fanno le altre. Anche la tua attività, il tuo volo, deve essere sempre aggiornato. Il fatto di aver battuto sul Tirol a ritorno, aver pareggiato l'andata, mi ti lascia un po' di rammarico perché magari avreste potuto essere ancora più avanti in classifica? Sì e no, perché comunque secondo me sul Tirol ha fatto un percorso importantissimo, quindi va in campo ogni partita, anche magari con le squadre un po' più piccole, sempre con lo stesso atteggiamento, la stessa umiltà. Anche noi cerchiamo sempre di farlo perché, come diceva prima Miracoli, cerchiamo sempre magari di affrontare la partita nel modo giusto, però magari inconsciamente la partita col Tirol, stai più attento, cerchi di fare meno errori. E quindi loro secondo me sono stati più attenti a quei dettagli, perché se guardiamo comunque le prestazioni col Padova, col Tirol, con la Trestina, cioè alla fine abbiamo, credo, tranne col Padova, tutti gli scontri diretti. Quindi poi incontreremo Renate, però loro sono riusciti a essere più continui. Però nel calcio per vincere i campionati devi vincere con quella piccola. Eh sì, è importantissimo. Quindi è un gran miglioraggio per questo aspetto. Eh sì, cercare di affrontare sempre le partite con lo stesso atteggiamento e cercare di non fare errori. Poi nel calcio comunque è molto difficile, però dobbiamo secondo me andare su questa strada. Grazie mille. Grazie mille.